ciao a tutti oggi video diverso dagli altri oggi apriamo gli avetti kinder allora praticamente sono andato in un negozio avevano messo tutte le cose per la pefana le cioccolate le caramelle perché c'erano tre pezzi un euro quindi tricks nicker mars e caramelle queste qua un po di cosine costavano un euro l'uno e c'era il cestone pieno di ovetti a questi qua sono rosa e quindi dovrebbe essere quella femminile ma non lo so se sono i shantmall o i trolls però la cosa che mi ha fatto prendere gli ovetti in effetti e perché dietro porta il codice kk di solito e con i codici kk escono proprio le sorprese principali e allora adesso sono curioso di vedere se è veramente così perché una volta adesso quando si apriva la scatolina 3 1 c'era il codice il codice corrispondeva al personaggio dentro questi qua avranno aperto le scatole per venderli anche singolarmente fatti non tutti avevano i codici e infatti è giallo scuro quindi c'è un personaggio non so di disidratta però lo scopriremo solo vivendo con i trolls quindi sono qui a come è bello questo è il glitterino si si allora questo qua dei trolls perché in effetti di femminile sono usciti prima i shantmall e poi però non ho comprato perché non sto mangiando vettine e poi adesso stanno uscendo i trolls ecco qui abbiamo glitterino che carino con microfono che canta adesso non montiamo subito e allora è come dico io quelli la con il codice sopra contengono il personaggio principale sicuramente ce ne dovevano stessa le altre però giustamente scoccio di comprare se ne ho presi due basti avanza non riesco a montare non riscattare quello deve andare sulla pedana ah ecco così così poi ecco qua così eccolo il nostro glitterino perché cadi letterino col microfono bene fuori uno vediamo il secondo le personaggi che possono uscire le troste sono tutti questi qua vediamo ah bello brains con i capelli viola io poi li conosco i nomi dei troste perché ho visto i film poi i troste mi piacciono molto bello branch questo è proprio il protagonista eccolo insieme a poppy sei un po' rotto l'ovetto bello 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 mi piace mi piace più branch che il glitterino è carino dai perché le cose le monto al contrario ovviamente c'è io ho montato i capelli al contrario ecco qua questo è stato facile non è andato bene eccolo branch bello bello vedo i tuoi colori nascere vedo i tuoi colori so che ti amo e dentro di me con te lo so quei colori colori rinascono che bello belli allora questi sono gli ovetti kinder dei trolls molto bellini quindi se vi piacciono i trolls prendete gli ovetti kinder va bene e soprattutto prendete quelli che dietro portano il codice kkk così sicuro troverete il troll bene io vi saluto un bacione alla prossima ciao ciao